L'omino della pioggia di Gianni Rodari. Io conosco l'omino della pioggia. È un omino leggero leggero che abita sulle nuvole. Salta da una nuvola all'altra senza sfondarne il pavimento soffice e vaporoso. Le nuvole hanno tanti rubinetti. Quando l'omino apre i rubinetti, le nuvole lasciano cadere l'acqua sulla terra. Quando l'omino chiude i rubinetti, la pioggia cessa. Ha un grande affare l'omino della pioggia, sempre ad aprire e chiudere tutti i rubinetti e qualche volta si stanca. Quando è stanco, stanchissimo, si sdraia su una nuvoletta e si addormenta. Dorme, dorme, dorme. Intanto ha lasciato aperto tutti i rubinetti e continua a piodere. Per fortuna, un colpo di tuono più forte di tutti gli altri lo sveglia. L'omino salta su ed esclama, povero me, chissà quanto tempo ho dormito. Guarda in basso e vede i paesi, le montagne, i campi grigi e tristi sotto l'acqua che continua a cadere. Allora comincia a saltare da una nuvola all'altra, chiudendo in fretta tutti i rubinetti. Così la pioggia cessa. Le nuvole si lasciano spingere lontano dal vento e muovendosi cullano dolcemente l'omino della pioggia, che così si addormenta di nuovo. Quando si sveglia esclama, povero me, chissà quanto tempo ho dormito. Guarda in basso e vede la terra secca e fumante, senza una goccia d'acqua. Allora corre in giro per il cielo ad aprire tutti i rubinetti. E va sempre avanti così.